Bene, buonasera a tutti, intervistiamo uno dei più grandi letterati che abbiamo in Italia ed è il maestro Dario Fo. Sono qui ovviamente con degli ospiti giornalisti che poi porranno delle domande al maestro. Il tema centrale di questa conferenza è Boccaccio e le sue storie. Iniziamo subito con la prima domanda, poi si aggiungeranno gli altri giornalisti da tutto il mondo. Caro maestro, chi è Boccaccio? Le storie. Attraverso le storie possiamo raccontare i grandi della letteratura. I protagonisti, Eva, Damo, la novella, i simboli, l'ironia e la loro relazione. Prego maestro, inizi pure. Vi racconto una storia subito, delicata e gentile prima, che è parte di un gramlo, presa da un gramlo e di un fatto di cronaca e lui ne fa addirittura due storie dentro. Noi abbiamo preso le due storie e ci siamo reso conto che si potevano benissimo incastrare una nell'altra per farne una intiera con una logica. La prima partiva gobba o storpia e quindi l'abbiamo messa dentro e ci sta benissimo. Ecco la storia. C'è un fiorentino, straordinaria persona, degna, famosa abbastanza nella città con molti quattrini, il quale ha sposato una donna giovane, giovane anche lui, di una bellezza straordinaria, veramente. Si amano e nasce un bambino bellissimo, vivono insieme felici e a un certo punto questa donna stupenda muore. L'uomo va via di matto, impazzisce, impazzisce, non riesce a vivere l'idea che questa donna non ci sia più. Allora cosa fa? Prende tutti i denari che ha, le terre che ha, i possedimenti che ha e li lascia a un gruppo di religiosi, gente che conosce da quando era bambino, che ha sempre avuto sicurezza di che fossero persone oneste, chiare e che non facessero interessi propri e parte via. Prende il bambino, abbraccia e va su per la montagna, sale sui monti più alti dietro Firenze, va oltre e finalmente arriva in un luogo dove ci sono delle grotte, uno in particolare gli va bene, si mette dentro questa grotta e cerca di acchiappare una capra selvatica, cerca di mungerla per il bambino, vivono proprio dai remiti con quello che capitano, con i frutti, con le radici e via dicendo e vengono avanti così. Ogni tanto, non subito, quando il bambino comincia a muoversi per proprio conto, ecco che il povero disgraziato, distrutto che continua a piangere, continua a pregare Dio di togliergli sempre dal cervello questa donna, questo amore che ha e scende a Firenze e va a trovare gli amici appunto di questa confraternita, sta qualche giorno con loro e poi subito rimonta velocemente e va dal figlio, il quale è stato abbastanza tranquillo, teme sempre che gli succeda qualche cosa e sta con questo figlio, cerca di allevarlo per bene, di insegnargli le cose principali, anche della religione e poi se ne va di nuovo, se ne va di nuovo, sta via quei due giorni, c'è sempre questa... e passano degli anni, questo ragazzino comincia venire su forte, è un piccolo selvatico, anzi un animale che se ne va, ha anche difficoltà di parola, anche se il padre cerca di parlargli lungamente ma non è sufficiente, avrebbe bisogno di gente così, dei bambini come lui, insomma, è vero, cresce, 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 arriva a 18 anni e finalmente lui dice, senti adesso ti stai preparando per andare a Firenze, in questa città, adesso per favore mi hai promesso che mi avresti portato quando fossi diventato grande, dico 18 anni, insomma sono grande, insomma basta, insomma portami con... no sì, sì, no, no sì, lo portano, vanno giù a Firenze, vanno giù a Firenze per la miseria, quando lui è davanti a questa città, impazzissimo, ha mai visto quelle case che ci sono, i palazzi straordinari, ci sono queste torri che salgono nel cielo e poi vede cavalli con i carrozzi, vede la gente che si muove, poi la cosa di cui rimane proprio stordito è quando a un certo punto si trova davanti delle ragazze, lui durante questo passeggiato chiedeva sempre che cosa è questo, come si chiama questo, lui quando arriva e dice chi sono? Chi sono queste? Ci sono delle papere, lui il padre dice chi sono queste? Papere ci chiamano e paperette quando sono piccole e giovani come quelle che vedi adesso, dice me ne dai una? Ma non si comprano, non si prendono, dice io ne voglio una, tu mi avevi promesso che mi avresti fatto un regalo, dammi quella, dice no, abbassa gli occhi, è pericoloso, sono esseri che sono guai, guai se ti metti in mezzo, viene a mettere la rovina, sono, mordono? Ma no, no, non c'è del fatto di mordono, il fatto è che hanno altri pericoli, altri guai, dicono ma non mi pare gentili come io, non ho mai visto cose così gentili, delicate intorno, no, tu mi stai raccontando una favola, io le voglio, io voglio, ne portiamo su una, ma non sai neanche come muoverti davanti al mio, insegnano loro a muovermi, non ti preoccupare, insomma ad ogni modo a un certo punto lui si getta, afferra una di queste ragazze, la prima che gli capita, la butta per aria, è una forza incredibile, la abbraccia, la stringe a sé, e la bambina, la ragazzina, ride, sghigliazza, è una cosa incredibile, e poi lo abbraccia a sua volta, e poi corrono qua e là, si riseguono, vanno in mezzo alla folla, e scompaiono, e il padre si mette a gridare, li cerca tutta la giornata, anche a sera, a fine sera, non li trova, chissà dove sono andati, sono finiti, sono finiti forse, sono andati su nella montagna, la strada la conosco, l'ho fatta con me, e allora va oltre il ponte, anzi va dove c'è il ponte dell'Arno, fa per attraversare il ponte, si sente male, cade nell'Arno che oltretutto è in piena e scompare, naturalmente il ragazzo non sa niente di questo, è con la ragazzina, si mettono in un prato, intorno c'è qualche casa, ci vedono dei ragazzi che passano, che si abbracciano, parlano anche loro, di dove vieni tu? Questa dice, io vengo dalle montagne, sono quelle dove sono il marmo, che cos'è il marmo? Quello che vedi lì nel palazzo, le cave di marmo sono lassù, io sono sempre stato lassù, dice, ma come ti chiami? E lei dice, Eva? No, ti chiami Eva? Perché cosa c'è Adamo? Bellissimo questa cosa, dice come si chiama il ragazzo soltanto in questa occasione, per tutto il primo caso non dice mai il suo nome, non lo fa chiamare da nessuno, Adamo e Eva, allora è come se fossimo nati in questo momento, noi siamo gli unici due su questa terra e ridono, si mettono a scherzare ancora e salgono insieme, vanno verso il luogo dove abita lui, perché vieni, puoi venire, non c'è nessuno che ti cerchi? No, io sono solo, sono nata, i miei genitori sono stati uccisi subito, io mi sono salvato da parte, mi hanno raccolto, mi hanno tenuto con loro, sono passato sempre da una piccola famiglia all'altra, ho conosciuto tanta gente, ma mai un parente diretto con il quale stare, non sono nato neanche a scuola e l'altro dice, perché cos'è la scuola? Ah, siamo bene, fra tutte e due, ancora che ci mettano un campanellino qui alla gola e andiamo fuori come delle pecorelle sperdute e così prendendosi in giro vanno sulla montagna, perdono la strada perché un conto è farla in discenza, l'altra salita, non si ricorda più i passaggi, si trova in un posto dove c'è una montagna completamente forata e ogni tanto in uno di questi buchi ci sono della gente che vive in disperpazzi, alcuni sono eremiti, normali, pensatori e che uno in particolare folle viene fuori da uno di questi buchi e dice, il diavolo, tenete lontano il demonio vestito di bellezza e quando lo riconoscerete cacciatelo nell'inferno, questo mancano macchie, cos'è questo fatto del diavolo, chi è il diavolo, chi è di bellezza, il diavolo vestito di bellezza, può essere dappertutto ha detto questo diavolo, forse può essere anche in me il diavolo, forse dice lui, Adamo dice, è più facile che sia in te, fatto di bellezza e lei dice, perché mi trovi bella? Sì, è molto bella, è la prima volta che uno ritrovi bella e così giocando, scherzando, ritrovano la via, vanno dove è il loro luogo, dove c'è la grotta, dove vivono, aspettano il padre, non so, mangiano quello che riescono a trovare e poi si mettono a dormire uno vicino all'altro senza problemi, poi al mattino si alzano, c'è il sole, si giocano e a un certo punto si prendono uno con l'altro in braccio e si capovolgono e a un certo punto lui, lui sente qualcosa che non va, che devi fremere, prende la ragazza e la butta via e lei dice, ma perché, cosa hai fatto? Dice, stai lì, non ti muovere, va dentro la caverna, chiude con dei pali dentro, non venire vicino, ma cosa ti è successo, perché, che cosa è successo, non ho fatto niente di male, non lasciarmi solo, ho paura qui solo, c'è una tempesta che sale, l'ira di Dio viene giù, anche la grandine e lui niente sempre dentro, poi a un certo punto si affaccia e vede lei che è ferma, bloccata, non si muove più, la roba fuori, la prende, la braccia, la strofina, la porta dentro, accende un fuoco e poi cerca di scaldarla e poi la stringe, la bacia, gli grida, Eva, Eva e lei dice, che bello il nome di Eva nella tua bocca e poi si abbracciano ancora, si tengono vicino e a un certo punto lei dice, ma che cos'è questo fremmito che sento addosso e soprattutto te, che cosa sta spuntando, spingendo qualcosa di rigido che mi prenda nel ventre, che cos'è, dice, è la ragione per cui prima ti ho cacciato via, è il mio diavolo, come il diavolo, io credo che questo sia il diavolo, vestuto di bellezza, ma non mi sembra tanto molto bello, non ha neanche gli occhi, il diavolo è cieco, va bene, ma però il fatto è che deve avere un buon odorato perché come io sento il tuo odore e la tua risata e vedo i tuoi occhi e la tua gioia, ecco che lui subito si rizze e vuole partecipare, stai fermo! E poi lui dice, sai cosa temo? Che tu abbia ragione, quello è davvero il diavolo e io temo di avere l'inferno, mi sento un bruciare dentro che tu non hai idea, mi sento bruciare dappertutto, tu hai l'inferno, io il demonio, allora aveva ragione, gittate lo diavolo all'inferno e gettiamolo questo mio inferno, questo diavolo! Grazie! Grazie! Grazie!